Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa cinquantesima puntata del podcast di Marcos Box. Apriamo questa breve puntata parlando del rilascio di Wine 5.0 che giunge dopo un anno di sviluppo e porta con sé oltre 7400 modifiche al codice. Le modifiche più interessanti riguardo il supporto multimonitor è quello per Vulkan 1.1. Su blog trovate comunque un link alle note di rilascio complete nel caso vogliate approfondire e sprucciare se c'è qualcosa che vi interessa. Sempre in tema dei rilasci è stata rilasciata questa settimana una anteprima del tema Greybeard Dark. Che cos'è? È la variante scura del famoso tema Greybeard che troviamo su Xubuntu da qualche rilasa a questa parte. Il nuovo tema, questa nuova variante del tema o meglio, sarà disponibile su Xubuntu 20.04, non è il tema predefinito ma lo trovate tra le opzioni all'interno delle impostazioni. Se volete provare il nuovo tema all'interno del blog su Marcosbox, nei commenti, trovate il link alla pagina GitHub del progetto e a quella su Launchpad dove trovate il link diretto al pacchetto che potete installare su Xubuntu o potete estrarre il tema e installarlo su qualsiasi altra distribuzione che fa uso di XFSE. I temi Dark ormai piacciono a tutti quanti quindi anche loro si sono adeguati. Questa settimana è stato annunciato il vincitore del contest che il team di KDE ha lanciato qualche mese fa per scegliere lo sfondo predefinito di Plasma 5.18 LTS. Plasma 5.18 LTS che sarà rilasciato in forma stabile il prossimo 11 febbraio. Il vincitore del contest si è aggiudicato anche un Tuxedo Infinity Book 14 che gli sarà spedito a casa direttamente da Tuxedo Computers che è stato partner di questa iniziativa. A tutti i partecipanti sarà inoltre spedito come premio di consolazione un pacco contenente vari gadget a tema H.A.D.M. Ricordo a tutti i lettori di Marcosbox che è possibile usufruire di uno sconto del 3% sull'acquisto di un computer 100% Linux compatibile dal sito di Tuxedo Computers mettendo l'apposito codice di sconto Marcosbox che trovate. Comunque trovate anche all'interno del blog c'è una sezione apposita sulla destra dove c'è un bannerino che vi rimanda a questa notizia con le informazioni su come utilizzare questo codice sconto. Non è una sponsorizzazione perché io da Tuxedo Computers non prendo un centesimo sono riuscito ad ottenere questo codice sconto contattandoli qualche mese fa perché alcuni lettori mi hanno chiesto se potevo ottenere un codice sconto e quindi se volete utilizzarlo è poca cosa però è sempre ben gradita. Poi i computer di Tuxedo Computers sono garantiti al 100% Linux compatibili si costano un po' di più però non ci sono sbatti, non ci sono problemi per quanto riguarda le scorciatoie da tastiera quindi luminosità e quant'altro integrazioni, driver delle schede wireless quindi non avrete problemi prendendo un computer da loro. Passiamo ora alle ultime due notizie della settimana una buona, l'altra cattiva Cominciamo dalla notizia cattiva Il team di Rocket League, Psyonix, la software house che sviluppa questo gioco ha annunciato che Rocket League non sarà più supportato su Linux e Mac OS La decisione è stata maturata dai problemi che il team di sviluppo riscontra nel porting di nuove funzionalità e tecnologie nelle versioni Linux e Mac OS Evidentemente il gioco non vale la candela molto probabilmente gli utenti che utilizzano Rocket League su Linux e Mac OS sono davvero pochi e quindi il gioco non vale la candela e si è deciso di cessarne completamente lo sviluppo e il supporto A marzo arriverà un'ultima patch per Linux e Mac OS Il gioco continuerà a funzionare ma sarà castrato in praticamente tutte le funzionalità online quindi non sarà possibile giocare online, fare partite private non ci saranno più gli eventi di gioco e così via Psyonix offre due possibilità per chi ha acquistato Rocket League su Linux e Mac OS Potrà decidere di scaricare gratuitamente la versione per Windows Se non volete più giocare al gioco perché non avete a disposizione una macchina Windows potrete comunque chiedere il rimborso tramite Steam anche se avete giocato più di due ore al gioco o comprato il gioco da più di due settimane C'è anche una terza via però, terza via ufficiosa che è stata riportata sul sito del supporto di Rocket League che consiste nell'utilizzare Proton o Wine se siete su Linux oppure Bootcamp su Mac OS quindi a girare il problema in questa maniera Non sono comunque soluzioni che Psyonix supporta ufficialmente quindi di conseguenza se le prestazioni non sono adeguate è un problema vostro Psyonix si lava le mani Passiamo adesso alla notizia buona Ubuntu 20.04 LTS non avrà più l'Amazon Web Launcher Il team di sviluppo ha deciso di rimuovere l'Ubuntu Web Launcher dai pacchetti preinstallati sulla prossima versione LTS come conseguenza scompare quindi l'unico, perché era l'ultimo, Web Launcher che era presente su Ubuntu ovvero quello di Amazon probabilmente questo significa che Canonical ha interrotto la sponsorizzazione con Amazon e quindi di conseguenza se ne va a farsi fortere Onestamente mi chiedo se mai qualche utente abbia mai utilizzato questa scorciatoia per fare acquisti su Amazon perché non vedo il motivo di utilizzarla Comunque, sapete bene la storia che c'è dietro questa sponsorizzazione di Amazon Praticamente questa scorciatoia è arrivata nel 2012 con Ubuntu 12.10 quando c'era ancora Unity e in quel caso quando era presente su Unity era una scorciatoia cioè una sponsorizzazione ben più pesante perché che cosa accadeva ai tempi di Unity i tempi di Unity era sviluppato sotto forma di Gens quindi ogni qualvolta quando era attiva questa Gens ogni qualvolta noi andavamo a fare una ricerca all'interno del computer spuntavano anche i risultati correlati dal sito di Amazon quindi potevate trovare potevate acquistare direttamente i prodotti cercando direttamente nella Dash di Unity ci furono tantissime polemiche all'epora quando fu lanciata questa funzionalità tant'è vero che poi Canonical decise di disattivarla perché prima sulla 12.10 era preattiva l'Amazon Lens poi decise di disattivarla nella versione LTS successiva se non ricordo male ci sono state polemiche perché erano in una intrusione della privacy Amazon sapete bene che spesso viene visto come il male assoluto dai sostenitori del software libero in particolare dal nostro caro Richard Stolman e poi anche nel mio caso era mal visto perché mi ero accorto all'epoca che facendo ricerche cercando alcune parole spuntavano risultati poco consoni vi invito ad andare a vedere il video il link che trovate in descrizione sul post al riguardo adesso si era ridotto un mero collegamento su Gnome Shell comunque una delle prime cose che io andavo a rimuovere appena instagavo una Ubuntu su una delle ultime release di Ubuntu perché era inutile era anche antiestetico da vedersi perché era presente al primo setup quindi già al primo setup del desktop vi ritrovavate la scorciatoia nel launcher laterale comunque beh, azienza non ne sentiremo di certo la mancanza bene, con questa notizia ho chiuso lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao